ooooh bella a tutti ragazzi bentornati dopo un sacco di tempo vabbè loro non possono saperlo ma dopo un sacco di tempo sono nemici, gente che fischia gente che fischia tipo così tipo no mi hai aperto gli occhi questo telegram finalmente non devo pagare quell'euro maledetto a zucke esatto che bello poi il motivo per cui per non fare pubblicitaggio lo usa davvero? se no doveva pagare lui ha le sue fisime mentali ma lui usa il scusa usa quello per computer ma c'è anche whatsapp per computer no quello lo sapevo però lui usa telegram per una scelta di vita quindi quel monello forse è tornato a vita tra l'altro non ci ha fatto sapere niente so che vive ecco vive e lotta con noi credo ma cos'era la prima uscita vi specerà i gioconi quelli grossi dirà a voi che siete plebei giocate smazzatevi halo e queste cose qua perché io devo fare fatica a queste uscite della vil plebaglia io non so cosa devo fare nel caso non avessi minchia però mi avete rotto cazzo mi ho dimenticato quanto vi odiavo tra l'altro dovremmo essere quasi verso la fine io non vorrei caramanico lo sa caramanico lo sa se non lo sa lui se sta per finirlo o no figa incredibile devo andare su mister ragazzi è davvero lungo sto gioco c'è cazzo da fare no 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 cosa è successo sono arrivate le navicelli sto cazzo mi ah per questo ti ti piglia ma no anche adesso sei davvero contro tutto ma in realtà lo sai che si ammazzano a vicino se li lasci ecco nel loro brodo ma il problema è che non è tanto tu che li lasci nel loro brodo sono loro che non lasciano te nel tuo brodo esatto capisci ho mangiato ieri il brodo tra l'altro neanche a farlo apposta ma quindi sarai a parma questo weekend come il weekend scorso e come il weekend prossimo quindi se volete venire a trovare a parma in realtà non c'è tempo quindi non fatelo ma ma spiegati cosa fai fare un corso corso di che lo puoi dire o non lo puoi dire quando sono sicuri di sopravvivere lo dico corso di 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 galateo no non proprio di specializzazione di 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 una roba della palestra beh ma dillo magari gli utenti sai come sono no? è il corso di di istruttore della federazione italiana pesistica sarebbe una federazione riconosciuta dal CON cioè sei quello che dice agli altri come sollevare pesi no nello specifico in teorie sul la federazione dovrebbe occuparsi della cioè per pesistica si intende aspetta eh il storiamento pesi la disciplina olimpica assurdo è per questo che ha affiliato il CON ma assurdo era relativamente la risposta quello che dico io mamma mia quindi dopo che ha fatto questo cosa puoi fare? no il figlio di puttana ma li devo sparare sul tempo? beh ci sono i si prova a andarli vicino a tirare la randellata no più lato comunque deve andare in quei punti rossi perché sono indicati come però prova a vedere dietro di te se c'è un modo lì c'è una rampa non vorrei che sai poi follow the white rabbit la rampa portava qui e qui non c'è più nessuna rampa poi poi cioè ci sarà un modo per stare in line up no? le configurazioni hardware e software non soddisfano i requisiti dai tiragli in una randellata non lo so ehm prova a saltare quei tubi che si anche c'ho chiusato ai tubi ma per prima vedere se qua è compiuto c'è qualcuno ma ok non devo muovermi da qua no no ragazzi che sbatti che mega sbatti perchè poi in sto gioco i nemici cioè evidentemente si rigenera sai che non mi ricordavo tutto questo sbatti incredibile comunque dicevo morale il weekend scorso è la parma il weekend prossimo sarà parma il weekend dopo ancora sarà parma poi ho finito e poi ti chiameranno Giulio Masterchef dei pesi quello dipende dai utenti quindi allora quindi insomma tutto ci sarà una piccola assenza dal canale diciamola così tra virgolette a meno che tu non voglia fare un video dove ti riprendi vestito da Herbert ballerina mentre sollevi i pesi ma potresti fare no è piccola assenza dal canale dipende cosa vuoi fare sai che io comunque ma adesso abbiamo in ballo un bel po' di roba ti dirò di cui una cosa l'ho già finita che è di order già finita? sì non è lunghissimo come gioco d'accordo e poi ci sarebbe abbiamo cominciato Revelation 2 per la gioia dei vecchi fan di Resident Evil e stiamo non so se quando sarà pubblicato questo video finendo Dying Light ovviamente inshallah è d'obbligo sì perchè sai questi giochi qua sai quando li inizio ma non sai mai quando li finisci perché è una cosa abbastanza perchè parla questo coso fastidioso? ah ma gli devo pure dare il numero di telefono al telegram è come whatsapp cioè non interroga direttamente lui non chiedermi cose a cui non sono in grado di risponderti minchia che storia no cazzo assurdo lo dice anche lui assurdo una granata senza motivo che storia che storia ma invece tu cosa mi racconti? cosa hai fatto questo ultimo? ti racconto che se non trovo modo per salire insomma donno ma parecchio anche eh però no ma a parte questo che è un evergreen ma in generale in generale è sto cazzo ah ok ma niente di crotanto la solita vita non ce lo sai noi veniamo nella monotonia se non ci sono i nostri utenti a rallegrarci allora mi chiamo Francesco Franci Franci come sei giovane dentro cognome pisellone cognome ready questo è un side joke sottile eccoci qua allora vediamo un po' che cosa esce quindi qui trovo Joe sotto sotto la voce Joe pisellone eh non so io non ce l'ho salvato così ah non ce l'ha salvato così io no caspita io eh vabbè io si lo sai che quando apri un canale con un tuo amico raggiungi una certa intimità io non capito ti giuro non sto capendo cosa devo fare a parte spara tutto quello che si muove ma questo è spara spara e poi chiedi mannaggia a tutto e a tutti ma secondo te riusciremo in un video a finire questo gioco se capisco cosa devo fare eh sì ci sono anche delle buone speranze ah perché tu stai girando la mezz'ora ma tu puoi saltare lì su ma io ci salto anche non vedi un cazzo no perché tu lo sai che poi è eccola la c'è una porta la sotto ma questa è chiusa questa è chiusa ma magari c'è un'altra porta che è aperta no dico magari perché poi ah cioè tu questi qui continuano ad attaccarti sì 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 sti cazzi arrivano loro arrivano le navicelle arriva sto cazzo comunque non lo sapevo sta roba ma tu quando l'hai scoperta telegrama analita di tempo fa telegrama è tra virgolette famoso ma a parte che ce ne sono tanti comunque di programmi del genere ma telegrama in particolare è famoso io non lo sapevo cioè tu questi questi insight me li devi dire prima cioè chi andava a pensare che guarda pigio anche i contatti mi piace mi piace guarda qui ma solo alcuni ce l'hanno no si perchè non ce l'ha mai lo scaricaggio eppure in linea in questo momento monello dighi che monello scriviti stiamo salutando in in gioco ma tra l'altro ho scritto a lui ho scritto ad altre persone e che in solito ogni tanto mi scrive della gente che uno dice ma ma come stai? ma stai bene? cioè così cioè proprio io non ti sto cagando di striscio ma tanto c'è in realtà purtroppo non hai visto tutte le porte le prossime quattro sono chiuse quella lì? è una porta non è da dove vengo? si è da dove vengo sei sicuro? e devi cercare una porta doc sono belli questi video l'unica cosa è fare come come nei guardati dietro guarda lì qui c'è una porta che c'è una porta ok perchè lo sai che un'altra cosa che puoi fare ma questa è grafica vecchia o grafica no? questa è vecchia ma però si nota aggiungerei anche quando cambio però beh ci sono dei momenti che non è troppo che ha no dico però se la cambio lo vedi c'è si si minchia quanto odioso sto guarda chi johnny canterino qua eh si ho detto che ride che cazzo ridi? non è accettabile recuperatore devi consegnare il congegno comunque no è ti ripeto te lì che non è famoso ma perchè quando whatsapp mannaggia tutto quando whatsapp è è diventato di di zuckenberg e telegamerizzato famoso perchè era l'alternativa appunto gratis per sempre non in mano tipo al male assoluto nella visione di di persone come i giochi quindi ma pensa un po' se già prima era tra virgolette l'alternativa più credibile poi è diventato a maggiore ragione tra l'altro uno dei motivi per cui Joe aveva deciso di di passare al lato scuro è che tipo vabbè sì parlando di sicurezza informatica quelli di telegram hanno tipo dato hanno messo in pali un premio di 400mila dollari cosa del genere a chi riesce a craccargli il programma davvero? sì e qualcuno gliel'ha craccato? evidentemente no no cazzi dobbiamo craccarlo noi 400 zucche oh fase 1 completata ora dobbiamo puntare subito a uno dei quattro reattori ci vuole un'esplosione che faccia da catalizzatore per destabilizzare il campo di contenimento magnetico intorno alle celle diffusive usa un esplosivo meglio una granata o un razzo se resti senza esplosivi c'è un arsenale vicino all'ingresso della sala stana troia no eh un attimo sai che dovrei cominciare da capo? si ricarica allora sta muovendo attento bravo fregatene fregatene vai scendi giù proprio alla velocità ma hai ragione fai e piglia un altro medikit che stai stai bene ok ansia 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 ed è il il pensatore ed è si questo piano si può fare ed è in che senso in teoria si fa che questa questa missione dovrebbe essere fattibile no invece mi sembra ampiamente fallibile checkpoint mi sembra un tasso di fallibilità veramente incredibile se vuoi fare il ganzo attiva anche quello di là e fa il double dai notato c'è il checkpoint ah no è più fuori di uno alla volta perché? perché sta già chiudendo vedi la tasta e navette di merda escono fuori perché questi sono degli stronzi cioè non per altro e data loro escono fuori per questi solo che questi guavio vengono addosso a me c'è capito tutto un circolo non ho preso no perché 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 si stava chiudendo capire però è entrato l'ha visto? aspetta ammazza ok si incazzano provo quattro giro non mollare tac ammazza di cortana minchia cortana ma poi perché quattro reattori ci sarà anche un motivo ma la pilla da foto ma adesso così facendola distruggiamo però spero bene se lo merita dai vai vai in tutta serenità vai avanza proprio sereno come un nostro amico che si chiama sereno chi si ah tutta la volta ti faccio la stessa domanda non è che cosa mi sa più non è che cosa mi sa più dai dai ho giunto di scarico Vai giù, vai giù Faccio sopra Spara di quelli che... Questo è stronzo Vai Ma l'hai distrutto? C'è un ascensore sopra la sala macchina Porta a un corridoio di servizio classe 7 Che corre lungo il dorso della nave Cioè? Raggiungi l'ascensore al terzo dover messo Ovviamente M***e ragazzi ma bombazza Abbiamo ripreso la registra Giulia Ti volevo dire E che gli utenti non sanno che questo video in verità La versione originale 50 minuti Cioè mi va essere un... Beh io taglierei qui Taglia Ciao eh